Ok, ciao ragazzi, ciao ragazzi, allora con questo spero breve training voglio rispondere a un po' di voi che mi stanno cominciando a chiedere come scrivere articoli al meglio. Ora, nella mia academy, nell'academy di marketing per coach, nei prossimi mesi ci saranno diversi training su blogging, però siccome qualcuno di voi giustamente già avanzato vuole andare avanti, vuole cominciare a scrivere articoli, vi darò dei consigli base sul blogging e sulla SEO, veramente base perché io non sono specializzato in Search Engine Optimization, ovvero la SEO, la disciplina che ti permette attraverso parole chiave di posizionarti sui motori di ricerca, sì, ci sono il microfono, ok, non sono specializzato, non sono fortissimo nella SEO, spingo un pochettino in più le mie skills, le mie aree di competenza sono più spinte verso la copy, verso i contenuti, quindi vi darò qualche consiglio in più su quello e qualche accenno ovviamente alla SEO, giusto per darvi qualche parametro. Vi consiglio, se rimarrete con me, se andrete avanti con la masterclass o rimarrete anche sull'academy, ci saranno dei training specifici fatti da professionisti, miei collaboratori, partner esterni che interverranno per darvi dei consigli un pochettino più concreti e professionali e utili sulla SEO. Ok, allora, detto ciò, andiamo in Share Screen, andiamo in Share Screen, allora vi farò vedere le due parti del, le due parti dell'articolo, ovvero nel, nel back-end e nel front-end, per così dire, ovvero, datemi solo un secondo, ok, allora, prima di tutto qui dentro, dentro il, la dashboard, ok, nello, nello spazio dedicato alla costruzione di contenuti nel vostro WordPress. Allora, due, tre cosine, due, tre cosine basiche. Il titolo va in H1 in automatico, quando avete deciso la master keyword, ovvero la parola chiave principale che volete spingere in quel, in quel, in quell'articolo, sappiate che deve essere nel titolo, ovviamente, in questo caso io avevo scelto gestione del tempo e deve ripetersi nel primo paragrafo che voi scrivete, qua, di solito grassettata, esattamente scritta così, anche se è in un contesto di una frase, ovviamente, e poi ripetuta per quattro, cinque volte in tutto l'articolo, ripetuta quattro, cinque volte, potete utilizzare anche dei sinonimi, ovviamente, l'unificazione del tempo, allora io ho usato l'artesimale, questa è la prima cosa. Quanto deve essere lungo un articolo? Allora, consideriamo che, consideriamo che ci sono, c'è un'antologia infinita sulla SEO, dice più o meno, è le ultime che ho sentito io da esimi esponenti, esperti di search engine optimization, di SEO e di blogging, dicono che Google predilice comunque articoli più lunghi di almeno mille, mille, duecento parole. Quindi cercate di fare magari meno articoli se avete difficoltà, ma cercate di di farli abbastanza lunghi, perché Google, appunto, il motore di ricerca predilicono articoli lunghi, per le proprie mini guide diventano. Questo sulla gestione del tempo, credo che fosse mille e cinque, mille e seicento parole, non mi ricordo. Allora, quindi, abbiamo detto questo, abbiamo detto della lunghezza, abbiamo detto che il titolo, appunto, va in H1. Altra cosa, cercate di fare periodi non più lunghi di 3-4 righe, come vedete qua, come vedete qua. Dopodiché date uno spazio, date uno spazio dell'area e dell'aria, si chiama così, dei cuscinetti di aria, fra i vari periodi, ok? Così da rendere fruibile la lettura. Considerate che molti articoli vengono letti attraverso lo smartphone, quindi lo spazio è molto ridotto, non è come leggere sul monitor, quindi se è tutto appiccicato, ci sono periodi di 15 di che appiccicati, diventa molto molto fastidioso, molto difficile la lettura. Dunque, un'altra cosa che voglio dire, è che l'articolo tendenzialmente è diviso in tre tronconi. Riprende moltissimo quello di cui parlavamo per la realizzazione degli infoprodotti. Io uso sempre quello schema che funziona molto. La prima parte dell'articolo, di solito, richiama il target, fa leva sul dolore, crea attesa, crea molta attesa e promette quello che poi si andrà a dire nella parte centrale. In questo caso, io ho fatto una lunga premessa, una lunga premessa, come vedete, di almeno due o trecento parole, dove faccio leva appunto su quanto possa essere importante saper pianificare al meglio il tempo, di quante correnti di pensiero ci sono su questo argomento particolare e immediatamente faccio una cosa. Qua, nelle prime trecento parole, metto già un collegamento internet, scusatemi, un collegamento, un link a un altro mio articolo. Questa cosa è molto importante. I parametri SEO, anche qua, consigliano di mettere almeno due hyperlink, due link connessi ad altri articoli. Questo perché, per generale, quella che viene chiamata è frequenza di rimbalzo all'interno del vostro sito, fa sì che la persona rimanga più il tempo possibile dentro il vostro sito e crei appunto più autorevolezza al sito, crei più importanza a questi link, importanza a questo sito, a questo blog. Quindi, almeno un paio di riferimenti ad altri articoli del vostro blog. Cercate di usare sottotitoli come questi e usate l'H2. Nell'H2 non sempre, però usatelo spesso, le parole chiave. Ok? Gestire al meglio, gestire il tempo. Come vedete qua, io ho detto, impariamo a gestire il tempo. Quando possibile, ripetere la master keyword, la parola principale che avete utilizzato, che avete deciso di utilizzare, all'interno dei sottotitoli, dei titoli interni, come vedi che separano i periodi. Ok. Poi, andiate sotto, io continuo a fare questa lunga premessa. Altro aspetto. Link esterni. I link esterni, i link a siti esterni, sono molto importanti. Fate soltanto attenzione a cosa linkate. Non linkate siti concorrenti, ovviamente. Non linkate siti che possono andare in contrasto col vostro blog, col vostro sito, che portino via le persone. Tendenzialmente, io non sono un amante dei link esterni, però ultimamente piacciono molto. Specialmente se i link a cui collegate il vostro articolo hanno un ranking, un'importanza per Google elevata. Io utilizzo link siti, collegamenti a Wikipedia, pagine di giornali importanti, il giornale.it, il fattoveriano.it, il repubblica.it, il colore della sera, piuttosto che tg.com, eccetera, eccetera. Vado a prendere una notizia, ci faccio un articolo e pubblico dove ho preso magari uno studio particolare. Come vedete qua, studi scientifici come questo studio della Duke University. Addirittura qua sono da prendere uno studio della Duke University e ho linkato quell'università lì. Ho un sito importante che parlava di questo, non mi ricordo perché l'articolo l'ho fatto qualche tempo fa. Ok, fino a qui credo sia tutto a posto. Altra cosa, io qua in questo articolo ho usato una, due, aspettate che non mi ricordo, fate pazienza, due immagini. Sì, ho usato due immagini, ho usato due immagini soltanto. Quando possibile, specie se l'articolo è abbastanza lungo, è lungo come questo, potete usare altre immagini. Mi raccomando, nella community vi ho consigliato quei link dove andare a prendere le immagini libere da copyright e di alta qualità, usate sull'immagine di questo genere. Quando inserite l'immagine, mettete, mi raccomando, mettete il, ecco qua non è stato messo, chi ha messo l'immagine non l'ha fatto, però gli alt text, mettete il titolo all'immagine per capirci, ok? Che non è stato fatto, molto bene. Poi, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, poi io vado avanti e entro nel cuore dell'articolo. Usate tantissimo, altro consiglio, usate tantissimo i punti, i bullet, i bullet point, i punti numerati risaltano, piacciono molto a Google e aiutano la lettura. Quindi sono user friendly e anche SEO friendly, ok? Altro sottotitolo, altra immagine, molto eloquente, molto descrittiva, aiutano tanto la lettura e poi sono partito qua con come gestire il tempo in nove mosse. A proposito, se questo articolo è sempre in H2, non l'avete visto, venitevelo a leggere e condividetelo, mettete un mi piace, mettete un commento, perché secondo me è molto interessante. Qui faccio i miei soliti... Ci sono altri link esterni, qua ho esagerato proprio, ho messo un link a Wikipedia sulla legge di Pareto. Questa osservazione, eccetera, eccetera, arrivo fino alla fine. Qua c'è la parte centrale, quindi prima vi ho detto che ci sono, è diviso in tre parti, un'anteprima dove descrivete la parte centrale dove date il metodo che deve essere sempre, o comunque lo consiglio, numerato, dando la sensazione di essere qualcosa di conseguenziale, in nove mosse, in sette passi, sette segreti, cinque cose da... Questi effetti, i numeri, funzionano tantissimo e inducono a leggere. Basta. Alla fine, la conclusione, cercate di mettere sempre, sempre, dei link, ok? Dei link alla fine, ad un altro articolo, alla vostra squeeze page, o comunque a qualche altro connessione che non mandi via la persona, e fate una bella chiusura. Andiamo a vedere come viene dal fuori, diciamo, nel front end. Qui c'è l'immagine, che sia una bella immagine, andatevela a prendere, proprio fatta bene, e come vedete è molto bello. Quello che vedevate prima, il social share, è il plug-in che vi permette di mettere qua per le condivisioni. C'è una bella lavorazione anche grafica. Qua, questo è un plug-in, non mi ricordo come si chiama, abbiate pazienza, ma permette di creare hyperlink, che si chiama proprio così, però se cercate hyperlink per WordPress, lo trovate, è un plug-in stupidissimo, che ti permette di mettere l'indice degli argomenti. Ok? Eccolo qua. Come vedete, è molto bello, fatto molto bene, a mio avviso. Un bell'articolo, e fra l'altro è stato letto diverse volte questo articolo, perché è molto utile, anche se ci sono zero commenti. Che altro dirvi? Fammi pensare. Dunque, per fare, vi ho messo anche i consigli per il calendario editoriale, fate un calendario editoriale con le parole chiave, con gli argomenti, almeno una decina, così ce li avete già pronti, per fare, per gli articoli, con le parole chiave più importanti. Non cercate di indicizzare cinque parole chiave per ogni articolo, perché non serve, e vi incasinate la vita, perché poi la parola chiave deve essere ripetuta circa tre, quattro volte, fa fine che l'articolo diventa una cozzaglia di tutte frasi ripetute, stupide, e non hanno senso. Meglio una, due, massimo due, per articolo. Una volta che avete fatto l'articolo, scendete giù, dentro le nuove versioni di WordPress, c'è trappertutto, qua c'è lo Yoast SEO, che ti dà, come vedi, io qua l'ho fatto molto bene, la descrizione, vedi come, qui ti fa vedere come per i dispositivi mobili, come risulta, vedi che qua c'è la parola chiave, ecco perché SEO mi ha dato l'ok, qua, se non fai le cose fatte bene, non inserisci i titoli, non inserisci i sottotitoli, come si deve, non fai la descrizione come si deve, appare, o rossa, o giallo, per farti capire che ci sono degli errori, ci clicchi sopra, e ti fa vedere quali errori ci sono. la reggibilità, come vedete, ecco qua c'è una cosa corregibile, distribuzione dei sottotitoli, quattro sezioni del tuo test sono più lunghe di 300 parole, e questo è molto, molto palloso, molto preciso, ok? Come vedete, qua è ok su tutte, bravo, bravo, la parola della sezione è ben fatto, sta usando molte forme attive, ottimo, fresh, reading, easy, il punteggio del contenuto 75.3, quindi molto buono, va bene, tutto qua, fateci caso, perché questo vi aiuta tantissimo per ottimizzare, per posizionare i vostri siti, poi addirittura c'è la funzione avanzata a pagamento, ma non ve la consiglio, rileggete molto bene, rileggete molto bene, come vedete, io metto molto spazio, faccio, creo molto, molto, molto spazio, molti periodi piccoli, due, tre frasi, dando molta aria, perché agevola la lettura, ve l'ho già detto, cercate di leggere i miei articoli, magari prendere qualche spunto, anche per la modalità, per il copy, per come vanno scritti, cercate di usare sempre un linguaggio diretto, friendly, non ridondante, non palloso, cercate di raccontare storie negli articoli, cercate di raccontare, di prendere spunto da fatti di cronaca, di fatti social popolari, che siano attrattivi per le persone. Ok? Tutto qui. Basta, finisco lo share. Ok, ragazzi, grazie, 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 e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.